Una delle cose che più mi turba è il poco amore che abbiamo per il nostro paese, perché noi italiani ci disprezziamo tanto e non so perché. Io forse che sono nata al confine estremo dell'Italia non ho questo disprezzo, una grande ammirazione, ma rimango sempre sorpresa di come tanti italiani non si accorgono del grande privilegio di vivere in Italia e questo deve essere un onore per comportarsi anche onorevolmente. Devo dire che negli ultimi anni, siccome sono 30 anni che sono nel mondo della cultura e della letteratura, gli ultimi anni sono crollati ad esempio a livello delle traduzioni, traduciamo il 70% di meno. Io amarei molto a ricevere gli autori tedeschi o piuttosto che ci sono lovacchi, ma non si traduce più perché il mondo con la globalizzazione invece di aprirsi si è chiuso e ognuno legge i libri del suo paese e non vuole più leggere quello degli altri e questo è bruttissimo per la letteratura perché letteratura è curiosità degli altri paesi. Speriamo di aprire un po' queste finestre chiuse.